Se stai riscontrando problemi proprio all'avvio di Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops 6, ovviamente sia su Steam che su Battle.net hanno questo stesso problema, ovviamente su Call of Duty su Steam ho la stessa cartella con tutti i Call of Duty dentro, quindi in questo caso se stai ricevendo proprio problemi ad avviare il gioco puoi andare direttamente su questa rotella qua, vai su proprietà, vai su file installati, sfoglia i file locali. Una volta fatto scendi fino a giù fino a trovare così la cartella di Call of Duty, questa qua Call of Duty HQ, vai su crash log generator, cancella questo file qua, una volta fatto cancella anche il file code e basta, una volta fatto chiudi qua e fai così la verifica integrità dei file del gioco e aspetta la verifica dell'integrità. Se invece è anche su Battle.net questo problema, io ovviamente tengo tutti Call of Duty installati su Steam, quindi qua sopra vicino a gioco installato vai su rotelle e c'è scritto ripara e ripari così il gioco. Ma prima di ripararlo come ho fatto su Steam entra nella sua cartella, cancella le sue applicazioni e poi fai una riparazione. Se questo problema non si risolve, possiamo andare direttamente sulla cartella AppData facendo esegui qua e fai esegui. Qui sopra vai a scrivere %AppData% e fai ok. AppData local. Vai a trovare così la cartella Battle.net e la cancelli. Elimini questa cartella di Battle.net, tanto ha solamente salvato le cache di tutto quello che hai fatto su Battle.net, tipo ti sei connesso, hai fatto l'account, è tutto. Quindi se cancelli quella cartella e apri Battle.net, tanto per farti vedere come funziona. Cancello così la cartella Battle.net, però Battle.net lo devo chiudere e faccio esce e faccio riprova. Ora vado a scrivere qua sopra Battle.net Ed eccolo qua. Mi dice di riconnettermi al mio account e di fare di nuovo l'accesso e faccio l'accesso al mio account Battle.net Ed eccolo qua. Poi una volta fatto vai su Giochi. Prova ad avviare uno dei tuoi Call of Duty e vedi se funziona. Stessa cosa anche con Steam. La stessa cosa con Steam. Bisogna andare sempre nella cartella e trovare Steam e cancellare la cartella Steam. Con tutte le cache, tutte queste cose qua, cancelli e rifai di nuovo l'accesso al tuo account. Oppure ti sconnetti direttamente dal tuo account Steam e accedi di nuovo. Verifica dell'integrità dei file. Una volta fatta la verifica, su Download uscirà un'installazione da fare. Quindi devi riscaricare di nuovo quelle applicazioni che abbiamo cancellato e farà anche un ripristino. Poi una volta fatto devi solamente avviare il gioco. Come puoi vedere due file non sono stati convalitati e verranno riscaricati. I file che ho eliminato nella cartella di Call of Duty. Una volta scaricato e aggiornato così tutti i file. Non ti basta che avviare il gioco e fai il gioco. Sembra che Call of Duty, questo posso anche metterlo sì. Ed eccolo qua. Ed ecco che Call of Duty si è avviato. Vabbè, connessione fallita, quindi faccio riprova in attesa della rete. Quindi grazie a tutti per questa visione. Se hai problemi, commenta sotto al video. Noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Ciao.